Appena finite, mandiamo questo eroe base o FIFA World Cup 80 Cucu, grazie P9, cucu, bentornato Vediamo un po' sto gioco di merda Votate sì così, godete due volte Vai Volete sapere quanto me lo ficco in culo da 1 a 10? Vieni, vieni qua Vieni qua Vieni qua, ok, Brolin non scambiabile, ok Ok, Brolin non scambiabile Vieni, vieni Vieni a vedere quanto me lo ficco in culo da 1 a 10 Ciao, Hunter Vieni, vieni qui Vieni, vieni a vedere cosa ci facciamo Eh, me lo ficco in culo 11 Io Mi puoi prestare un Brolin? Eh, adesso c'ho tutti e due Che culo 23 mesi con il mio No, le hero sono inutili, regà Le hero sono inutili Cioè, parliamo se chiaro Le hero Ma poi costa troppo Dove essere una rosa 85 questa sfida Non si sa come Se sono inventato in 86 In 83 Ne esiste Cioè, è proprio follia È fantascienza L'icona, almeno Sono 87 più baby mid Se te escono alcuni Ho visto un sacco di roba Ciotta Ti posso usare un VL Qui per usare un VL Non so chi me deve da Me deve da Lucio? O me deve da Giaiatura e Marchiso Mi fanno schifo? Me deve da Ginola? Stop Cordobacello Brolin ce n'ho due Che culo Allora, allora, allora Abbiamo quest'iro Quest'iro secondo me, regà Cioè, l'icon ti direi Sì, ok Una fatela L'iro a prescindere Direte no Allora, o me levavi Il fatto che c'era L'iro base Cioè, quanto costa La sfida? 100? Oddio 150.000 Ne manco tanto Ripensandoci Pensavo costasse un po' Di più Però Principe Milito Ho trovato per di Com'è? Da provare Ma le carte CG Eh, che a base Ho finite Di ucimerda Grazie Chi sei? Ciao da Grazie Ben tornato Nei pacchi sono Asettiati Il dropper a band Avano estinti E giorno dopo Credo che risalirà parecchio Eh Lollo Grazie a V17 Ben tornato No, ma tanto Poi ripagacentasse È impossibile No, ma questa È una scammata Parla molto chiaro Chi è? Borbo Ciao Grazie per il Riot Ben tornato Vedo, grazie per i21 Ben tornato anche a te Frate Mi sono persa Grazie per i6 Andiamo Eroi base FIFA Pa 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 Se gioca su Next Sì, sì Vabbè Ti aspetto Ti iniziamo Ole Mascherrano Ciao Barba Nera Dimmi Cosa Cosa ti serve Vuoi un po' di pipo? Vuoi un pezzo Ah, mascherrano Non scambiabile? Accidenti Che fortuna Cazzo Ma c'è la musica Ho registrato Con Con Mesa Con l'audio attivo Tipo Vabbè Quello a basso L'audio Ha un muto Sti cazzi Mi serve La clip Ha un muto Biotic Twitch è ancora Ma non smetti Di fare Eh, c'hai ragione Pizza Tu re le vallo Che mi dimentico Dele vai Rob Io non è che C'ho tanto apprezzo A sta roba Ragazzi È tenuto il comando Mi ricordo Che cazzo Era per i6 Io mi ho detto Senti Ma che fai Volevi No ma Io sono un po' così Era una clip Del 2013 Sto giocherellone O col ti dico bene Col è benino Buon costo Hai pagato 150 La sfida Eh lo so Rega Ho tua pubblicità C'è barba nera Purtroppo Che c'è un tasto Scusate Che c'è un tasto E continuo a mannarle Ma c'è Senza vergogna Io Ci provo sempre A dirgli Guarda Regolate Però Io a water Da penso sia finita La collaborazione Con i ragazzi Solo rega Marco Grazie B5 Benton Già avevamo pagato 40k De più rispetto Al comprare Questo è Francia ATT No è Francia S Portogallo ATT Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì No, non scherzai È sempre vero L'88 dentro in Builder Desti tempi è tutto buono Macello, desti tempi toccatene tutto Sì, tre pacchetti, quindi cosa hai di bello? Hai l'eroe Ma scusa, di cinciò una lira ha fatto tre eroi No, non ti preoccupare Ma chi potrà trovare tre eroi? Beh, ci devi trovare uno che c'ha un squadra Chi c'è? Ginola Tutti ce l'ho C'è la Fuliro Porco, c'ho mezza Giaia Dure e Marchisio Dici questi così, va trovato Non lo so Esattamente quattro eroi in squadra Da, quello e mezzo Olè Ma questo potrebbe essere buono Vabbè, dai, non è male però Usi Super Sub Vabbè, se vuoi una recca dei vostri è carino Carino, non so che ho chi ho lì Hai visto, campionato della Polonia Un po' spigoloso questo smu Questo vale, tu spicci Sì, sì, mezzo mio onesto Dai, è andata bene Vabbè, dai Magari a me mi ha dato Brolin Per base C'ho già quell'altro uno scambiabile 89 Insomma Vabbè, per ora ti posso dire Comunque Contenuto importante Beh, pacchi Il primo Questo sarà tipo Dutec Vabbè, questo è tipo A base Questo è un po' zutec Devi scaricarlo Questo Però quello dopo Vabbè, dai Portiere Badellati Beccate il sole Guna Mamma mia, me lo so preso ieri Io Dato 84 plusselle del futuro Ancora me lo sogno Ti chiedo solamente che 20.000 Che ne pensi? Stavo per ora Visto per l'SBC Solo che è Marvel No, dai Questo è normale Però è franchise Come vuoi dire Francia S Mi metti in difficoltà Brava, potresti Controlla Insomma Ecco come funzionano Gli stili di intesa Hai visto quello Lui è uno Bravo lui però Fa bei Rilla Tiktok Bravo a destra Bravo Bravo E ole Diego 88 però Grande giocatore Il principe Che sei forte Che sei un grande giocatore Beh guarda Però ti ho trovato Smolarek Stai comunque in positivo Delle tre sfide che hai fatto Per il coso Mi posso dire fortunato Fortunato no Però siamo andati più o meno Beh Smolarek tra una settimana Sarà a 200.000 però Quello Da mezzo milione Probabilmente Però è sempre Lo metti in squadra Guarda Ma poi c'è tanta fine Ma chi vuole trovare Questi che c'è Impossibile Sì Illusio Iaia Sì Vabbè Niente Di un po' ti trovi 8.06.000 Ah Quanto ho pagato Ieri 95 Però almeno C'è la faccia De te Io non me ne ho Beh se Magna che ti sei preso Di buono Erzuski No come Erzuski Erzuski Un po' di cinese Un po' di tutto Ma sai che scuregioni Che fai Ciao Giacchi Baldo a FIFA Oh Carvaio Buono Vabbè che sto Carvaio Ho trovato Sul terzo account Anzi Però te Uno di Radar Si chiama Faim Ma ne è quello Che sta a fare Mondiali Col Qatar L'ha segnato pure L'altro giorno Ma eh Quando uno è forte È forte Ma lo sai che Quello che ha segnato L'altro giorno Conte L'Argentina È il cugino Di quello Che gioca A FIFA Arabo Ma dai Lo so Cugini Sì Ma Aldao Asari Ma che è Il cugino D'Aldo Asari Bravo Piccolo Il mondo Giacchi Grazie per 39 Ben tornato Una storia un po' così Però è tutto vero Cioè nel senso Raider è vivo Eh non lo sappiamo Ma il Raider è di favore Già l'ho giocata Libera Chi così Chi defibrillatore Intanto lo fasi tranquillo Ma te stai a da mangiare Beh se lo so portato Un'ambulanza Quindi mi sa che Quello proprio Male male Hanno preso Stavo a schier Lo so schier Shumber Drop Stavo a rarchier Stavo a rarchier A me è successo Con il tassista Che si è ficcato Dentro il fiume In che senso Scusa pizza Si vede che ha deragliato Non mi stanno a deragliare I mutanti Ma che poi pensavo Ma io lo dico dopo Che volevo ritornare A dar banana C'ho sta fissa Oh i dettosci Nakata Buono Nakata Bella per idea I do Bella è bello Ma sono comprato Il secondo Vabbè costa quanta La sfida però Franchino No no Franchino gioca dietro Fa legna A mezzo al campo Dove si porta via Le caviglie Franchino Lo sai Lo sai come è Suski Com'è Paradisiaco Matteo grazie e bizze Ma io ricordo Bavo Tomorif O Lucio base A me ricordo Con le mie piaciute più Quello Quello con Atrix Mi ha distrutto Mi ha fatto troppo Rite Lui troppo simpatico A me fa rite Come parla Atrix Te lo dico Ti devo pensare un po' A Michael Jackson Lui No Quel Michael Non quello Quello della tira Ah Poi c'è sta Terima Il firma D'Abbad Antoine Sì frate Ce l'ho presente Eh no Che mi pare Beh ha parlato Un po' così Su La scena finale Corfazzone Quella fa sentimale Oh però Quello là Mezz'ora De vita Mezz'ora Mi ha tenuto Oh Lupolusio Porco Dio Che culo No eh Però Insomma Sto registrando Non mica si sente Quello che dico Eh nel video Sì Perché io Ho tagliato L'audio Eh Sì Devo tagliare Chi mi ha preso Video editor C'hai la cosa Per dività Traccia 735 video Caricati su YouTube Ma insomma Ti è piaciuto Ti è piaciuto Non so se l'hai visto Il video Quello che ho registrato Mentre ero fuori Bro La parte più interessante È stata quella Dove ti Gratti le palle Lo dici Non c'era bisogno L'amo capito Sì Cioè se vedeva Vabbè ma che specifica No perché scusa Perché Magari pure Accavallate le gambe No Incentravo Con quel tavolino All'una De notte Stavo lì a spostarlo Poi perché Perché hai registrato Un bagno Non potete andare Della Ma perché Della c'avevo solo L'altra stanza Non c'era Non c'era un tavolo Grosso Più che altro Per riprende Non c'era niente Quindi ho preso Ho detto Vabbè Voglio registrare accesso C'è un bel tavolino Mi avevo disposto A tutto quanto Ah sì Però bagno Conforte Con un bell'audio Poi quel microfonino Non è male Il microfonino L'ho comprato In teoria Per registrare I video Fuori All'esterno Quando diventare Un blog Quando c'ha provato Ah govun non scambiabile Dici che culo Che culo Il culo L'ha preso Eppure è piaciuto Personaggio molto scomodo Spacca Spacca Ti dovrei mandare Le clip Delle varie Hero Ste robe Cioè Se le vuoi prendere Dal video che è uscito Oggi su youtube Ok Se no te lo mando io Immagina Che urla Come un pazzo E si lamenta Per 5 minuti Aspirapolvere Vabbè Aspirapolvere Non è che io vado a dire Però qua tipo Quando della spara Un lativolo La musica alta Io lo devo dire Perché se si sente Il latio desktop Poi la musica Mi parte O strike per copyright Non la pio benissimo Perché fino a quando Non lo sento con le cuffie Non si sente in stream Sti cazzi Il problema è Se si sente nel microfono E mi arrivano strike Potrebbe Perché i miei Hanno messo la musica Allo stereo Quello potrebbe essere Un grosso problema Vabbè O strike Ma sì Sti cazzi Dici no Streamersi di social Messaggio più assieme Quale non c'entra Assolutamente No Francia Ti papen No niente Non merda E tutti che ridono Si divertono Eeeh Grandi Papin papin papen Papin papin papen Papin papin papen Ber coglione Ber coglione pure papen Grande papen Regano è tornato Gli hanno menato Peddair E lo sono andato in due Arrivederci e grazie Eh vabbè Ricordate sempre Che se vi si libera Il prime Yoshi 93 Gratis Mascherano 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 Eeeh Mazzà che caga Yoshimizu 93 Ma te punti Scano di PSN Duferpet Faccio No non me die Dai Ma è quello che stava a usare Immagino che lo Esatto Bello che continua Da puri non scambiabili Che merda Vediamo qua Che c'è Strad è bello Eroi in base O FIFA World Cup 86 Vai World Cup Eeeh Marchi Fai una squadra Con quadrate In game Gioco 4 E in difesa Vandek e Konatea Vandek e Konatea Meglio come difesa Ma secondo me Pure quel quadrato Se devi scegliere Tra i due Vale più la pena De fallo L'altro sembra un po' così Un po' me Onestamente Apriamo questi altri eroi Va Abbedì Se pezza che ha tirato da Niholmo Abbedì Pelè Insomma Cammino Tutto bello Vediamo un po' Vabbè te posso A me non piace Però Meglio di quello Che ho trovato io Onestamente Sicuramente Due eroe base Si è fatto Coraggioso Vai Noier Guarda che faccia Tu coglione Si è arrivato Ha presa lui Ha presa Papem 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 Proviamo il secondo Vabbè Vediamo che esce fuori Due pacchi Orribili Ma veramente Orribili Madonna Mi ho fatto il pacco Tre volte Come tre volte Dono Madonna Che disgrazia Alla Stesso punto Mio Scusa Stai a 12 18 Si La guerra ref E' un atterramento Un'aria Quello Eh vabbè Ma vanno Yoda Smola Recche Smola Recche Beh Mmm Buono Smola Rec C'è arte Er base Tutto Un culo No E vabbè Scusa Ma sto video E' bestie Mierutti Che deve Voi mu fa Famosi L'eroe E poi Famosi L'icon C'è Le va Maradona Da gioco Poi Stronzo Italia GC Marchesio Grosso Questo Grosso Acchiappo Questo qui Oh Ma questo E' un acchiappone Ci sono oggetti Sul mercato No Non è di rondone Raga Eh ma Non è di rondone Ma ti posso dire Ma ti posso dire Ma ti posso dire Fa il DC No Marchesio Carlos Alberto Si è rifatta La squadra Si è rifatto Ammazza Che robetta Ma ti posso dire Ma ti posso dire